Gianni Colacioni, 11esimo congresso di Galli Italiani qui a Velleggio, che siamo a terza e in corso l'intervento di Marco Valle, siamo in compagnia di Andrea Liberato, che è sempre gentile con i libri di tutto il mondo. Andrea, si può dire che alcuni hanno detto che c'era un pensiero che dice, io ho detto un po' lì, che il congresso comincia lì di sera, con l'intervento di Movenzio, che è un po' l'infervescenza che si è creata, come fa questa parola, l'infervescenza che non è natale, è un po' l'infervescenza che si è creata, perché siamo stati inseriti gli argomenti importanti per la cosa che ha detto. Adesso, insomma, l'infervescenza successiva all'intervento di Movenzio, sono così questioni anche personali che potevano anche essere limitata o emergere in altri contesti. L'intervento di Movenzio è un po' importante, io credo che si è iniziato a conoscere un po' prima, perché il stesso Maurizio poi si richiama a quanto ha detto Michele, il nostro tesoriere nella sua relazione di un giorno. Quindi c'è da vari momenti che mi torna l'intervento di Movenzio, però ce n'è uno, adesso non so se lo riporto esattamente, però credo che non possiamo andarcene via da qui facendo la situazione economico-finanziaria è anche quella che è, sono fattori determinanti, se uno poi vuole affrontare le elezioni, come una di Roma, le regionali, sono anche in Lombardia, le politiche nazionali, anche gli stessi referendum, l'aspetto economico-finanziario poi è importante, tutte queste cose che ho citato, una cosa che costano un milione di vento, li troviamo, dove li troviamo, li facciamo. La cosa che imparerò, vero anche in piena area con Proccio non parlare, mi ha convinto ovviamente meno dell'ottimo intervento di Movenzio, e in piena area sull'intervento di Movenzio, non mi sembra che le altre componenti della galassia abbiano problemi, a partire da quello che poi si è mostrato il sole della galassia, che ha vari problemi, uno va ricordato di Movenzio, sacrifica tutte le sue risorse del Partito Radicale, a finanzare le mani radicali italiane, infatti la politica di tramite queste, il chiave transnanzionale, voglio essere generoso verso nessuno, però mi sembra che il sole non c'è faccio senza giustizia, ma solo tutto il caino, porti inovanti nel battaglio internazionale, come Sergio De Villa, Isabetta Zampalutti, la copertura di Unitargine Africa, il lavoro di morte, il tutto il lavoro, chiarissima parla con l'ONU, ma anche in una maniera positiva, quindi speriamo, per la sospesa di più a breve, per le modellizioni città le famiglie, per il lavoro di amico e non di una capacità di giustizia, perché un radicale di per sé, destinandolo a questa modalità di discusso agli altri, per sé non riesce ad operare. Il Consiglio Generale non si riesce a riunire, il segretario, ma adesso è chiaro che all'inizio del 2012 nessuno poteva venire a sapere che il Mali, il nostro segretario dell'Emba Traoretti, originale, dove li siete, ci sarebbe stato il Corpo di Stato, poi un governo tecnico, lui è il direttore di tutta la ministra, sono in una situazione che era difficile da prevedere, ed è chiaro che lui, però anche per queste vicende anche nel suo paese, non ha la possibilità di operare in quanto altro segretario. in quanto riguarda quello. Io credo che sarà molto importante questa idea di Marco Pallana, ma è molto piaciutante il congresso, non delegati italiani, del fronte italiano della galassia del Presidente. Di qui a breve vedremo forse anche il quadro italiano un po' più chiaro, un po' molto utente. Questa parte italiana pensi che le persone cambierà rispetto ai componenti oggi? Cioè la componente italiana del PR, le persone differiscono da quello che sono presenti in cui succederebbe poco in Città. In passina parte no, se parliamo dei dirigenti, io li vedo tutti presenti, non mi viene in mente un segretario, un tesoriere di un organismo radicale, che sono sempre un'unica radicale importante e che non ho visto, adesso ci sarà pure, però mi piacerebbe che non mi viene in mente perché li avete visti tutti. Quindi è chiaro che anche qui ci sono dei quali diversi, ma anche qui ci sono dei quali italiani, come potete leggere i giornalismi e vedere dei pubblici. È vero, su me il primo problema è un problema economico finanziario, cioè rischiamo di raffriggere l'aria. Facciamo bene i conti, tutti insieme però, quelle che sono le soste disponibili, che presumibilmente si raccomandano anche nel 2013, saranno simili a quelle di quest'anno, sono un'incapacità, se non ci si inventa una campagna, di città, 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 come si affronta, perché affrontare solitarie, è piaciuta molto l'iniziativa dell'Università del Natale, in un'altra parte, io, come sei intervenuto qui, che cosa verso i spessi del congresso, credo sia stata molto utile, spero che si venga ripetuta, un inferiamento migliorio. Un articolo che ho molto convinto è quello del senatore Littano di Gnari, cioè da solucionesi da una parte, e ricordiamocelo questo, Siccome sono abituato a una forma mentale, mi ha perversa a pensare più al negativo, una delle cose che vorrei evitare, purtroppo è una cosa che aleggio, se devo dire da qualcuno, è di fare delle liste legali per avere il rimborso elettorale su quello che facciamo, veramente mi metto da su una festezza infinita. Noi siamo stati gli unici che in vent'anni la lista Pannella ha speso 26 milioni di euro al rom per incastrare 23 milioni di euro al rom per rimettendo, questo dico a tutti, soprattutto a tutti gli spettatori che davano un radicali, normalmente non è così, è mediamente 1 a 5 da poco, cioè mediamente chi spende 23 milioni di euro si va a prendere 110-115 milioni di imporso, e gli altri soldi dove finiscono? Eh l'abbiamo visto con Lusi, con Franco Fiorito, qui, si vede dove finiscono, noi siamo stati gli unici che ci hanno avuto messo, quindi andare a fare la campagna elettorale, senza poter fare lento, con la prospettiva solamente di disanguare ulteriormente le casse di San Gesino, non è veramente abbastanza inutile come cosa. Potessi inserire, secondo me, interverrò breve su uno dei nostri giornali, se non è la fonte del centro-sinistra, lo accetto, ma quello può essere utile, altrimenti può valere anche la pena concedersi sui referenti, ma anche concedersi solo sui referenti. Il modello che da qualcuno viene detto, il referendum, il passato, io non ci credo, bisogna raccogliere le firme, va bene, poi per il referendum, bisogna anche cercare di riuscire. Non ci credo. Il referendum, appunto, è che passano su, che è una miliara di euro. Esatto. E io già quel fenomeno di 1 milione di euro lo vedo devono, secondo me sarebbero più soldi. E quindi il problema di un'istituzione che si è radicale nell'ultimo mese. O troviamo nuove maniere di autofinanziamento, il call center non funziona più, perché mi dice, no, perché quello che non è bravo a farlo funzionare, non lo so, il call center, forse, quindi da pensare, è anche una tecnica che era innovativa proprio dieci anni fa. Adesso sono passati quindici anni, magari c'è altro, magari il fundraising, che si fa anche direttare della rete, senza traccomandare le persone, proviamo a mostrare la maniera nuova. E chi ne ha delle successabilità, può fare una soluzione, c'è anche un patrimonio che la galassia ha, certo che non va di sì là, perché si vivono. Però, sia come succediva, mi sembra Roberto Mancuso, vogliamo la sede, non pensare ad essere più di argentino, poi però abbandonare quella sede lì, implica dei costi, un trasloco, implica una nuova sede, poi a noi fiamma di strada. Roberto aveva proposto, che era una vecchia idea che aveva esplosito, aveva riproposto adesso. Non mette io ne parlo nel 2004. Sì, credo che ancora prima del 2004 qualcuno ha. Beh, sì, vogliamo esplorare meglio qui. Se ne parlasse, beh, quello, o al tempo, ricordiamo, il 90, sì, non servono di caricare lungo, allora vediamo cosa si vuole fare. Allora, o con quello, se chi ha le responsabilità, pensare di farlo. Perché poi, io non so se sono buona mossa, ma sinceramente intendo a scaricare le responsabilità su un gelato. Perché sì, da un lato mi trovo quei migliori che nel 2013 magari mi consentono, non dalle lezioni del referendum così. Dall'altro poi, poi rimando, non avrò più. Quindi poi... Si può mettere a fondo un baranzo d'epoca... Sì, però poi quei soldi partiti, non solo dell'azienda, che sono cose economicamente disastrose. Quindi quei soldi poi verranno spesi in quell'iniziativa politica di quell'anno, e poi non ci saranno più. Non avrè un altro pub, un altro spazio. Finirà. Quindi l'autofidenzamento è chiaro che non è in grado di subvenire acquisto. Oppure c'è l'elementare di pubblica, un finanzamento nuovo. Altrimenti diverte. E tutto ve le dalle, neanche i referendomi fatti con i migliori. Quindi ve le dalle e andare da soli, e poi è un po' acquisire se si racconta con l'impresa così, perché per cui non si è costosa con l'autofidenza. Quindi, effettivamente, è un po' così. Sì, l'idea di scuola. Speriamo che tu via scuola. Nel termine di assistenza è un po' così. Non so sempre che sono... O 66 mesi, o 66 mesi. Forse fa stanotte o due ganti anni. È un po' un dramma nella questione di mio intervento. perché ho un articolo che c'era breve, spero su un'inizio radicale, sugli affetti tra PD e Radicale. Però poi non mi soddisfaceva con l'intervento abbastanza ormai. Ho scritto un altro sulle carceri, fino alle 3-4 di notte, che mi è piaciuto ancora meno. Però poi non sembra bene cosa dire. Un po' all'ultimo. Stanotte ho due illuminazioni, dovevo fare anche un descritto intervento. Però purtroppo è stato un po' tardi. Vediamoselo, lo affiderò a Libri TV, a Missione Radicale, insomma, i mezzi. Per parlare ce l'abbiamo. Andiamo volentieri. Credo. su Facebook e soprattutto sull'aristocrazia in Italia e risbocchiana, che è quella dell'aristocrazia in Italia. Possiamo dire che è un'aristocrazia in Italia. Ma anche su questo è un'aristocrazia in Italia. Cioè, non c'è un'aristocrazia in Italia? No, no. Infatti so che è una cosa che spiazza. Perché poi arriva quella... Assolutamente. arriva quello che scrive che è comunista o che è in Italia dei Valori o che... anche qualcuno di destra, cioè, sono un po' meno, però, intanto, c'è. Allora lo va lì, legge, dice, ma mamma mia, mi è radicale, non c'era proprio. Non è una cosa dove si scrive anche con dei nickname sui più fastidiosi, ma si scrivono con quello. Vedo veramente una versione internetale del ragno per l'accia. Cioè, tutti, se si scrivono, possono entrare, non c'è bisogno di avere testo, non c'è bisogno di essere radicali. E' bellissimo essere anche dei contestatori. Eh... Contaminatori di altri partiti che in ipotesi potrebbero anche con il ruolo contaminare da noi? Eh, chi lo sa, a chi lo sa. Ma se non è qualcuno un po' che nei mesi leggendolo cambia, io ho già... Si, 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 si. Se qualcuno adesso è una canale della campagna però le sue opinioni sono un po' cambiato. Ok. Allora, un saluto a tutti quanti gli amici. Ciao. Un abbraccio. Un appuntamento su bibel.disfu per queste altre interviste. Grazie. Muovici, visto che sei appunto quando pubblicano i vincesti aiutaci a far girare il nostro spettatore ogni festivo. Grazie a voi. 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 Grazie a voi.